Buonasera e ben ritrovati telespettatori. Apriamo con la cronaca. Fermato durante un normale controllo in autostrada sulla 4 Torino Milano, finisce in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio. Protagonista un uomo residente a Torino. A fermarlo è stata la polizia stradale nei giorni scorsi. L'uomo aveva in macchina due chili e mezzo di hashish e 50 sigarette elettroniche contenenti resina liquida di cannabis. L'uomo fermato per un controllo è apparso subito agitato durante la perquisizione. Gli agenti hanno trovato nascosti in un borsone due chili e mezzo di hashish suddivisi in 25 panetti e 50 sigarette elettroniche contenenti resina di cannabis. Gli agenti hanno accompagnato l'uomo a casa per perquisire la sua abitazione all'interno. Hanno trovato anche 1300 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Sono in corso ulteriori indagini. Altra cronaca che ha visto impegnati i vigili del fuoco nelle scorse ore. La centrale di Novara è intervenuta in via Boroli per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte tre auto. Come vedete dalle immagini l'incidente è apparso subito spettacolare ma fortunatamente le ferite riportate dai conducenti non sono state particolarmente gravi. Due persone sono state portate in ospedale dal 118. Ed ora parliamo di un incontro informativo che si è svolto a Cerano nei giorni scorsi dedicato al tema delle truffe agli anziani. Un tema sempre attuale. Abbiamo intervistato l'assessore alla sicurezza del comune di Cerano Alessandro Albanese. L'arma dei carabinieri, il comando provincia di Novara e poi in particolare la stazione di trecate, mi ha proposto di organizzare questa serata perché il fenomeno delle truffe, dei raggiri che poi purtroppo a volte si concretizzano in veri e propri furti e insomma reati di questo genere, nei confronti in particolare delle fasce più deboli come le persone più anziane continua a ripetersi con un'incidenza anche piuttosto importante perché nella fattispecie i carabinieri che hanno il polso della situazione confermano che ancora troppe persone rischiano di cadere vittima o a volte cadono vittima di questi spiacevoli eventi. Quindi con convinzione ho raccolto questa proposta di organizzare un incontro dedicato in particolare alle persone più anziane perché è vero che negli anni se ne è parlato molto, quindi si è cercato di informare in merito a questi rischi, però non è mai abbastanza, è sempre utile parlarne, parlarne e parlarne ancora perché va detto che l'essere informati, quindi essere a conoscenza dei rischi e di quello che può accadere, quindi conoscere anche proprio le modalità con cui i malintenzionati cercano di compiere questo genere di reati, la prevenzione però quindi l'informazione che diventa prevenzione è la cosa più importante. Restiamo in tema ed ascoltiamo anche il comandante della stazione dei carabinieri di Trecate, Giovanni Ferrara. Quali sono elettrici che hanno perpetrato maggiormente? Come abbiamo visto nel corso di questo incontro sono risultate quelle con maggior ripetizione ai danni dagli anziani effettuate a livello telefonico. In pratica il truffatore chiama con un numero sconosciuto, il numero di utenze di rete fissa, l'anziana persona e fingendosi un parente, un figlio, un marito che ha subito un incidente e sta male in ospedale, ha bisogno di cure, cure che sono piuttosto costose e quindi hanno bisogno di immediata disponibilità di denaro, la chiedono alla vittima. Presa dall'angoscia, dalla disperazione, l'anziana persona colta negli affetti non esita a dare quanto ha in casa, questi malfattori puntano direttamente al denaro, ai gioielli, hanno il complice che è già sotto l'abitazione della persona, non perdono tempo, dalla richiesta del denaro alla consegna da parte della vittima, ma è una questione di 10-20 minuti, non di più, anche per far sì che questi malfattori non vengono presi dalle forze dell'ordine. L'incontro di oggi quindi aveva lo scopo di sensibilizzare, far conoscere le anziane persone sul metodo che adottano i truffatori oggi per poter colpire queste povere persone e metterle in guardia e nello stesso tempo responsabilizzarle affinché i truffatori siano più accorte ma anche più partecipi del vicinato, quindi se notano un qualcosa, non faccio per dire, una persona con una casacca, una giacca blu, un berrettino e questi sono quelli che simulano di essere appartenenti alle forze dell'ordine, oppure qualcuno con le casacche, quelle catarifragenti di giallo, colore giallo, colore arancione e simulano di essere tecnici dell'arquedotto, della rete del gas o dell'energia elettrica, di buttare un occhio molto più attento, un occhio in più in questa situazione e quindi eventualmente seguirle, eventualmente dettare subito l'allarme. Meglio un buco nell'acqua a questo punto, magari sono veramente dei tecnici, effettuare uno sopralluogo di una truffa e quindi una povera persona che consegna tutto quello che aveva, i propri beni, i propri averi, i risparmi di una vita. 10 milioni di euro in arrivo nel Vercellese grazie ad un importante accordo tra la Regione e il Governo. Ne parliamo in questo servizio. Sono arrivati nel Vercellese complessivamente 10 milioni di euro da suddividere su 56 comuni erogati dalla Regione Piemonte per la valorizzazione dei comuni piemontesi, per i quali sono stati stanziati in tutto 105 milioni di euro, destinati a 805 comuni suddivisi in 24 aree omogenee. Dei 53 comuni vercellesi beneficiari dei 10 milioni, ben 49 appartengono all'area Borghi delle vie d'acqua, finanziata complessivamente con 7 milioni di euro. Quattro comuni invece appartengono all'area Baraggia e hanno ottenuto 2 milioni e 600 mila euro. Si tratta dei comuni di Buronzo, Carisio, Lozzolo e Roasio. Il Presidente Scirio ha sottolineato che grazie a queste risorse la provincia di Vercelli avrà ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e del welfare. I finanziamenti rientrano nel Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 che appartiene all'Accordo per la Crescita Territoriale firmato a dicembre da Alberto Cirio e Giorgia Meloni. Ora i comuni beneficiari hanno tempo fino al 31 maggio per candidare proposte, massimo tre progetti a comune, per potersi aggiudicare il finanziamento regionale che potrà raggiungere il 90% del totale di ciascun progetto. Gli interventi potranno riguardare ambiti diversi, tra cui digitalizzazione, competitività delle imprese, energia, ambiente, cultura, trasporti, mobilità, riqualificazione urbana, welfare, salute, istruzione, formazione e capacità amministrativa. Restiamo nel Vercellese perché a partire dal prossimo 5 marzo e per una decina di giorni la strada delle curve che collega Vintebbio a Gattinara resterà chiusa per lavori, ma sentiamo i dettagli. Dal 5 al 15 marzo la strada provinciale 165 di Vintebbio rimarrà chiusa al traffico nel tratto tra Vintebbio e Gattinara sulla sponda destra del Sesia, su ordinanza del settore tecnico della provincia di Novara. La chiusura è dovuta all'esecuzione di un intervento di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti che segue un analogo intervento messo in atto nell'estate dello scorso anno quando lo stesso tratto di strada fu interdetto al traffico per consentire la posa di reti paramassi lungo la parete rocciosa prospicente la sede stradale. Quel cantiere durò molto più del previsto. All'inizio infatti si parlò di una chiusura al traffico di poche settimane mentre poi ci vollero un paio di mesi perché tutto fosse completato e oggi il timore degli automobilisti è che si ripeta lo stesso problema. Il traffico per tutta la durata del cantiere verrà deviato lungo la strada statale 299 di Alagna, quindi sull'altra sponda del Sesia nei comuni di Prato Sesia e Grignasco. Ed ora torniamo a Novara, da domani sconti con i Taxi Rosa. L'iniziativa si ripete, la tensione appunto del territorio anche in questo mese è ancora più forte e la rete è ancora più compatta. Si ripropone anche quest'anno l'iniziativa Taxi Rosa dal 1 marzo al 31 marzo, uno sconto sulle corse dei taxi dedicato alle donne, donne che viaggiano da sole, donne che viaggiano in gruppo o donne che viaggiano con i bambini con anche la disponibilità da parte del tassista a rimanere fino a quando la trasportata o le trasportate non siano entrate in casa o nel luogo di destinazione. La corsa quindi avrà un costo di 7 euro perché lo sconto è di 3 euro. Il Comune contribuirà a rifondere i tassisti di parte di questo sconto, questo per favorire la partecipazione di tutti i 23 i taxi presenti nella città di Novara. Oggi abbiamo anche una tassista donna all'interno della compagine dei conducenti, sicuramente un'iniziativa promossa dal Comune di Novara insieme all'associazione Soroptimist e all'associazione di categoria dei tassisti che vede coinvolti tutti per un fine utile. Parliamo dei nostri amici a quattro zampe e di alcuni incontri organizzati in città. Il Comune di Novara in collaborazione con EMPA, GoGoDog e Lida promuove l'iniziativa intitolata Quattro zampe a Novara, una serie di incontri dedicati agli animali d'affezione. Alla luce delle numerose auduzioni che vengono effettuate durante l'anno nel nostro canile pensiamo sia importante la consapevolezza e la conoscenza di alcune regole fondamentali per accudire nel migliore dei modi gli amici a quattro zampe. Gli incontri promossi sono rivolti a coloro che già possiedono un cane ma che vogliono anche approfondire alcuni temi insieme a professionisti ed esperti. Questo è il commento dell'assessore all'ambiente comunale Raffaele Lancio. Allora vediamo il programma. Primo marzo, il cane in città. Are cani, bocconi avvelenati, regolamenti e gestione, prevenzione risse, primo intervento cane avvelenato, come segnalare correttamente la presenza di Bocconi. Relatori Irene Franco, istruttore Go-Go-Dog e poi anche i rappresentanti della polizia locale. Deborah Villa, trecate con la Lilt, la Lega Italiana lotta ai tumori. Oggi salutiamo e diamo il benvenuto a Deborah Villa. Eccomi. Ciao Deborah. Ciao, ciao. Qual è il messaggio principale che Tilt, esaurimento globale, vuole trasmettere al pubblico e annunciamo anche un po' di date? Va bene, allora dunque il messaggio che Tilt vuole trasmettere al pubblico è un messaggio intanto di condivisione di questo esaurimento, di questo stato d'animo e di stato delle cose che un po' è interiore ma ahimè purtroppo anche tanto esteriore. Mi sono interrogato, ho visto un po' il mondo, come sta andando, di motivi per esaurirsi ce n'è più d'uno, però diciamo così con una risata si possono risolvere tante cose, certo magari non la vita, certo magari non tutti i problemi, però se si ride un po' delle nostre problematiche, idiosincrasie, non dico di fare un malcomune mezzo gaudio, però insomma ecco ci possiamo tenere un po' per mano, farci una risata e risollevare gli animi. quindi questo è un po' il messaggio che si vuole dare. Tra l'altro lo spettacolo colgo l'occasione per dirti che ha tante parti di improvvisazione in cui gioco tantissimo con il pubblico, per cui insomma devo dire che è uno spettacolo sempre molto partecipato perché mi piace fare così. Poi se vogliamo dare delle date allora io sarò a Trecate il primo di marzo, San Giovanni il lupatotto il 2 di marzo, Scorsè il 3 di marzo, poi se vogliono a Legnano l'8 marzo la festa della donna, poi insomma se vogliono per vedere tutte le ultime date di questa prima tranche di tournée possono venire sulla mia pagina Instagram Deborah Villa e c'è il link in bio. Perfetto e come descriveresti il processo di creazione di questo spettacolo lavorando a quattro mani con Gabardini? Certo, allora dunque innanzitutto mi è venuta l'idea dopo la pandemia nel senso che al secondo lockdown sono andata un po' giù di testa come molti perché non ho visto più futuro nella mia vita e mi sono un po' spaventata. Dopodiché quando c'è stata la riapertura come comica mi sono interrogata ma io vado su un palco a far ridere la gente in questo periodo di delirio collettivo mi sembrava un po' irrispettoso. Allora ho dovuto fare un po' di analisi un po' su me stessa, un po' anche ho riscoperto le proprietà curative della risata perché non dimentichiamocelo ma la risata fa tanto bene a tante cose, al cuore, alla circolazione, ai reni, ai polmoni, è veramente tanto taumaturgica, infatti esistono anche i clown in corsia non per niente insomma perché risollevare gli animi fa bene e dopodiché ho iniziato proprio a pensare a come voler fare questo spettacolo e all'ultimo ho coinvolto Carlo Gabardini che mi ha dato una mano sui testi insomma da poter presentare e quindi poi è stato sviluppato a quattro mani. Ed ora la pallavolo, la Igor Volley Novara ha vinto 3 a 1 e ha conquistato la Challenge Cup. La Igor Volley Novara festeggia il suo secondo trofeo europeo. Dopo la Champions League 2019 le azzurre di Lorenzo Bernardi conquistano la Challenge Cup 2024 con un percorso netto fatto di 15 vittorie in altre tante partite giocate a partire dalla Weza Cup di settembre. Dopo il successo per 3 a 0 del Pala Igor sotto di 1 a 0 le azzurre hanno reagito al meglio vincendo i due set successivi e conquistando così la Cuppa. A seguire poi la vittoria anche nel quarto set che permette a Capitan Chirichella e compagni di chiudere la propria stagione europea da imbattute. Miglior giocatrice della competizione è stata l'opposta azzurra vita a Chimova. 25-23, 16-25, 20-25 e 19-25 i parziali. La mia prima Coppa europea in assoluto da allenatore, onestamente non pensavo così velocemente di riuscire a vincere anche una Coppa europea perché anche se sembra una cosa semplice non lo è, solamente anche per il motivo di tutti questi viaggi, trasferte, campionato e tutto, la Coppa se sbaglio una partita rischi di essere eliminato. Sono molto orgoglioso dei nostri ragazzi perché in qualsiasi momento sono sempre riusciti a compattarsi, ad aiutarsi, a giocare con uno spirito di squadra importante che sicuramente all'inizio non c'era e questa per me è la più grande soddisfazione. E' tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci!